Grazie. Grazie, sicuramente l'applauso era di un benvenuto per la professoressa Belzung, per me penso sia un applauso di incoraggiamento a poter tenere questa sala. Allora, innanzitutto benvenuti e benvenuti alla prima cattedra che facciamo in quest'anno accademico, 2013-2014, all'Istituto Sofia. Sei anni fa, quando abbiamo cominciato a pensare il programma accademico di Sofia, era balenata un'idea di questo tipo a Piero, al preside dell'Istituto, di fare uno, due eventi ogni anno in cui persone del mondo culturale internazionale potessero venire a Sofia, darsi la loro testimonianza, indicarsi il loro percorso culturale appunto seguito durante gli anni e attraverso il quale poter cogliere il distillato di tutta la loro esperienza, in un certo qual modo cogliere quegli aspetti della sapienza per i quali siamo qui. In questi anni abbiamo avuto filosofi, teologi, scienziati, persone del mondo della cultura in genere e ci hanno sempre arricchito con la loro presenza e il loro pensiero. Questa sera abbiamo con noi una scienziata di terra di Francia, la professoressa Belzung, Caterine Belzung, che, scusate la parola, è una scienziata nel senso che è una neuroscienziata, è esperta in neuroscienze, cioè quelle scienze che cercano di studiare in maniera, con una forte interdisciplinarietà, il legame tra il pensiero e la sua base biologica che è il cervello, se non sbaglio, vero? Ecco, lei ci presenterà una lezione magistrale dal titolo Ricerca scientifica e pensiero dialogico, un percorsi all'interno delle neuroscienze. Prima però di dargli la parola, permettetemi di presentarvela brevemente, almeno dal punto di vista accademico, per quanto sia riuscito a ricostruire, diciamo, il suo percorso. Caterine Belzung nasce in una famiglia d'Alsazia, qui di una terra di frontiera, dalle grandi intersezioni culturali, una terra che a noi è anche nota, perché sono decenni che abbiamo tra noi il professor Rosset, quindi l'Alsazia è anche a noi familiare. Ne conosciamo tanti risvolti, ma che la professoressa Belzung ci darà soprattutto gli aspetti positivi di questi risvolti. Quindi però anche questo fatto qui di essere nati in terra d'Alsazia vedremo anche degli aspetti che ritroveremo nella relazione della professoressa, perché ha segnato culturalmente la persona al dialogo, al rapporto con il diverso, con il diverso da sé. Tracciare le linee del percorso culturale fatto dalla professoressa Belzung potrebbe essere anche abbastanza lineare, farlo, come dire, seguendo i vari titoli conseguiti, ma a me piace presentarlo attraverso una parola. C'è una parola chiave per capire il suo percorso intellettuale, questa parola chiave è emozioni. Quando la giovane studentessa si approccia all'università di Strasburgo per iniziare l'università, ha dentro di sé un tema. Come è possibile che un'opera d'arte fatta da un uomo migliaia di anni fa, centinaia di migliaia di anni fa, possa suscitare emozioni a me oggi? Ecco, è una domanda molto profonda, molto interessante, e per questo motivo Katrin inizia il suo percorso accademico studiando storia dell'arte. Perché la domanda è sull'arte. Man mano che approfondisce questo settore, entra nei tecnicismi più specifici, come accade per ogni sapere, e questi tecnicismi gli fanno capire però che rispondere a queste domande non è facile in questo settore. Sospinta dalla famiglia a intraprendere anche uno studio che nel futuro avrebbe potuto dare un maggior sostentamento rispetto alla storia dell'arte, Katrin si iscrive alla facoltà di psicologia e contemporaneamente segue le lezioni e il corso di laurea in storia dell'arte e dell'archeologia e il corso di psicologia e consegue tutti e due i titoli che oggi noi chiameremo la laurea triennale, anche se allora non era ancora questa strutturazione. Successivamente, dopo aver avviato gli studi di psicologia, lì è a contatto con un professore che fa un corso in cui si parla delle emozioni. E allora capisce che quella è la pista che può essere approfondita. E quindi prosegue gli studi di psicologia conseguendo un master in psicologia sperimentale, tutto questo all'Università Louis Pasteur di Strasburgo, e poi successivamente si avvia verso il dottorato e consegue il dottorato, sempre a Strasburgo, un dottorato, un 10D in neuroscienze. Farà un breve periodo di post-dottorato a Roma con il professor Oliverio del CNR e poi avrà l'insegnamento in Francia, a Tour, dell'Università François Ramblais, a Tour nella Francia nord-occidentale. Qui consegue l'abilitazione al dirigere la ricerca, che è un titolo molto avanzato, e questo farà sì che lei potrà dar vita all'interno della sua università a un laboratorio, a laboratorio che studia le turbe affettive. Questo, diciamo, è il suo percorso accademico. Ciò che caratterizza la peculiarità di questo percorso e per il quale noi l'abbiamo chiamata, è che la professoressa Berzung, alcuni anni fa, due, tre, ha sintetizzato due teorie. Circa tre, quattro anni fa? Sì. Sì, non da sola. Lei è sempre molto modesta. Io ho fatto questo, ma insieme a tutta la mia equipe, giustamente. È vero. Però lei è anche la capo dell'equipe. È vero che non vogliamo essere verticistici, come altri alsaziani, però... Perché ridete? Però, come dire, anche tu hai diretto questo laboratorio. Cioè, quello che volevo dire era questo. Cioè, Katrin ha sintetizzato due teorie. Tra loro, non inconciliabili, ma che non si parlavano, che non avevano... Non c'era una dinamica dialogica tra le due. Lei, spinta da un qualcosa di metascientifico, realizza questa necessità di voler sintetizzare queste due teorie. Lo fa, insieme alla sua equipe, e per questo lei ha ricevuto, lo scorso anno, la legion d'onore, che è la massima onerificenta francese, per il conseguimento di questi risultati scientifici. Quindi, quello che a noi ci sembra bello, importante, anche per Sofia, è vedere come una persona che si avvia in un campo prettamente scientifico, squisitamente scientifico, in cui c'è una interrelazione tra tanti saperi diversi, riesce a, come dire, a fecondare questo campo attraverso l'esercizio della interdisciplinarità. Io avrei finito. Ti passo la parola? Vuoi che dico qualcos'altro? No? No, va bene. Ho dimenticato qualcosa? Non penso. Grazie Sergio per quella introduzione, anche grazie all'Istituto Sofia per l'invito, perché anche mi ha permesso di condividere alcuni giorni e di scoprire meglio Sofia, cioè condividere le mie idee e anche poi conoscere meglio Sofia, che ha un aiuto grande. Mi voglio scusare per il mio italiano, perché non sono italiana di lingua materna, come già ha spiegato Sergio, dunque spero che anche le persone di lingua italiana riescano a capirmi. Dunque, non funziona. Allora, mi è stato chiesto dall'Istituto Universitario Sofia una cosa un po' difficile, parlare delle mie ricerche sulla neurobiologia, delle emozioni e la depressione. Il tutto a partire dalla mia esperienza personale, quello che è difficile. Sono una ricercatrice in biologia psichiatrica, o se volete, in neuroscienze cognitive. Ciò significa di provare a stabilire un rapporto fra le alterazioni sintomatiche, come quelle che avvengono in un soggetto depresso, e le modifiche biologiche, specialmente cerebrali. Lavorando su questo, si è potuto constatare che in alcuni soggetti depressi, certe regioni specifiche del cervello sono disturbate, nella loro morfologia o nel loro funzionamento. Certe zone del cervello sono più attive delle persone depresse, come ad esempio le zone che sostengono il trattamento delle informazioni negativi, stressanti o tristi, e altre al contrario, sono più attive, come le zone che trattano le situazioni piacevoli, o quelle che permettono di inibire pensieri di morte. Dunque ne vedete esempi qui, questo cervello, non so se forse nascondo la diapositiva, che vedete in cervello umano, e in questo cervello si vedono le zone, quelle in colore, che sono disturbati dalle persone che soffrono di depressione. Si può vederne gli esempi in questa diapositiva. Altre discipline però possono proporre conoscenze diverse sulla depressione. Per esempio, la psicologia cognitiva afferma che essa è causata da una incapacità da inibire pensieri negativi. Alcuni filosofi si sono anche interessati in questa questione cercando la definizione della differenza tra depressione e tristezza o la legittimazione di trovare basi biologiche alla psichiatria in modo generale. D'altra parte, specialisti della biologia moleculare si interessano dalle molecole alterate in certe zone cerebrali, mentre specialisti di analisi sensoriali focaliseranno la ricerca sulle modifiche dell'odorato o del gusto che avvengono in soggetti malati. Ciascuna disciplina proporà il suo punto di visto e di colpo questa patologia può essere vista sotto una pluralità di prospettive diverse. La depressione è dunque spesso descritta in una moltiplicità di realtà. La depressione secondo il biologo, secondo il filosofo, secondo il psichiatra, secondo il farmaco, oppure secondo un dato schema teoretico. La depressione secondo la teoria ormonale, la depressione secondo la teoria della neuroplasticità, secondo la teoria aminergica, un'altra teoria, la depressione vista dai clinici, vista attraverso il modello animale, cioè ci sono tante prospettive. Allora, come fare per superare queste impasse, questi punti di visti molteplici e mai consigliabili, che danno come conseguenza l'impressione che il reale si sfuga da mano? Cerco nel mio laboratorio di attuare un approccio che valorizzi ogni punto di vista, ogni livello epistemologico, ogni teoria e nello stesso tempo si confronti con una sfida lanciata dall'approccio dialogico. Nel mio laboratorio di ricerca c'è un filosofo della medicina. Ci sono psichiatri e geriatri, etologhi, farmacologhi, biologi, specializzati in analisi sensoriale, neuroanatomia, in biologia molecolare. Senza contare la collaborazione con specialisti di discipline ancora più esotiche per un biologo, come per esempio un economista, che è qui nella sala anche. Certi hanno un approccio integrato e clinico, altri sono specialisti nei livelli cellulari. Nella nostra equip gli uni studiano marcatori cognitive e cerebrali nella persona depressa, gli altri invece studiano i neuroni e le molecole nel topo di laboratorio. Unità non significa negazione della pluralità, al contrario, l'unità integra la pluralità attraverso un dialogo rispettoso ed aperto. Questo è stato possibile perché ho trovato sul mio cammino professionale delle persone disposte a questo tipo di lavoro. Per esempio, il filosofo della medicina che si è aggiunto a noi aveva appena pubblicato un libro dal titolo La disunità della medicina, il che significava che vedeva i fenomeni dal punto di vista dell'unità e questo lo rendeva particolarmente recettivo riguardo il nostro lavoro interdisciplinare tendente a costruire una visione unificata della ricerca nel settore della depressione. Di che cosa si tratta più precisamente? Questo dialogo fra teorie, fra discipline universitari e fra diversi livelli epistemologici è emerso poco a poco e si sfonda su una metodologia basata sui seguenti quattro punti. Si tratta primo si tratta di un dialogo rispettoso e non una serie di monologhi dove ciascuno fa un discorso senza lasciarci penetrare da quello dell'altro. Questo dialogo suppone dunque l'apertura all'altra disciplina all'altra teoria dentro la stessa disciplina all'altro livello di approccio e ancora più semplicemente all'altro. non è un'accettazione passiva della diversità ma cercare di capire realmente su cosa si fonda il lavoro dell'altra disciplina su quali argomenti poggia l'altra teoria su quali metodi si basa ogni livello epistemologico e ciò per arricchircene. Si accoglie l'altro sul piano intellettuale col rischio di esserne scosso di dover rivedere le proprie certezze riguardo alle quali si ha a volte il desiderio di restare attaccati. Poco a poco questa strategia ci permette di diventare un'altra cosa rispetto alle marionette manipolate dalle idee dominanti dal nostro ambito culturale. È uno sguardo che ci conduce a non chiudere l'altra disciplina in categorie riduttive per riprendere un'espressione di Jacques Lacarrière e essere tessuto dalla cultura dell'altro. Nel nostro laboratorio scopriamo il mondo dell'altra disciplina ad esempio attraverso presentazioni di articoli scientifici ogni 15 giorni fatti dall'uno o dall'altro cioè a volte un articolo di filosofia l'altra volta un articolo di neurobiologia moleculare eccetera che ci permettono di entrare proprio nell'universo dell'altro. Questi collegamenti attraverso il coinvolgimento diretto di un ricercatore in filosofia preso il nostro laboratorio di ricerca ci permettono di sviluppare ulteriormente sia il legame tra le funzioni del cervello e la riflessione sia di esplorare nuove vie di ricerca. Per esempio i filosofi questo succede spesso possono aver notato ciò che allo scienziato può sfuggire per esempio in un'emozione possiamo distinguere diversi componenti la componente relativa alla percezione del nostro corpo ad esempio una modificazione della frequenza cardiaca cioè se hai paura il cuore batte più veloce la componente comportamentale cioè si sfugge per esempio la componente espressiva per esempio il fatto di piangere se si è trista e che anche consente a condividere la nostra esperienza emozionale ma anche la componente soggettiva cosciente la nostra esperienza in prima persona della emozione certo siamo in grado di misurare la frequenza cardiaca facile il comportamento o il fatto di piangere ma l'esperienza di ciascuno rimane però poi inaccessibile solo un dialogo tra filosofi e neurobiologi può consentire progressi in questo settore un esempio a riguardo è ciò che si è sviluppato il programma di ricerca della neurofenomenologia questo è un programma di ricerca che ha avuto come origine Francesco Varella che lui ha iniziato un dialogo con neuroscienziati e ha visto che i neuroscienziati descrivono quello che succede nel cervello senza escludendone l'aspetto cosciente si 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 presentano stimoli visuali per esempio qui sulle diapositive si vedono due immagini ma queste due immagini danno una percezione cosciente diversa cioè l'esperienza legata a queste due immagini è diversa allora quello che hanno proposto ricercatori come Francesco Varella è di tentare di combinare l'attivazione del cervello con una descrizione dell'esperienza consapevolmente visuta dal soggetto del test la novità è che il soggetto svolge un ruolo attivo durante l'esperimento perché si passano tutte le immagini intermedie tra queste immagini e il soggetto deve dire quando fa l'esperienza di vedere questo o l'esperienza di vedere quell'altro e allora si può realizzare della neuroimaging funzionale che permette di vedere l'attività del cervello e di collegare questo con la coscienza di percepire tale cosa e la coscienza di percepire l'altra cosa dunque questo è un esempio che mostra come la filosofia cioè il corrente della fenomenologia in questo caso specifico ha potuto cambiare il modo di fare delle neuroscienze e questo poi permette di scoprire nuove cose esistono altre tentative che cercano di integrare le scoperte delle neuroscienze e quelle della psicologia questo è un altro dialogo per esempio è stato constatato che le alterazioni cerebrali che esistono nella depressione possono essere soppressi da trattamenti qui su questa diapositive in alto qui si vede il cervello di una persona depressa quello che si vede in azzurro è la zona del cervello dove l'attività è minore quando si è depresso quello che è in rosso laddove l'attività è alzata nella depressione allora quello che si vede è che se si applica una terapia tipo psicologica quello che fa no è qui quello che fa è che primo permette che la zona in blu la zona che era dove c'era meno attività dalla persona depressa quella zona ritorna nel livello normale in prima e poi come quella zona del cervello è collegata con l'altra che è in rosso in un secondo tempo avremo qui il servito guarito mentre il trattamento con gli antidepressivi segue un'altra via che prima quella zona iperattiva nella depressione ritorna a livello normale e poi l'altra zona cioè dunque con un dialogo si permette poi di vedere che se si applica le due terapie insieme gli effetti sono molto più grandi e su questa diapositive qui si capisce perché su questa questo qui è una come dire si vedono neuroni e tutte le diramazioni dei neuroni e sulla cosa più alta si vede questo con un focus cioè si vedono tutte le connessioni tra neuroni dunque quello che si può vedere è all'estrema sinistra si vede scusate il cervello del soggetto normale poi si vede il cervello del soggetto depresso si può vedere che le connessioni sono più basse cioè ci sono meno connessioni qui che dall'altra parte ma poi qui si vede quello che fanno antidepressivi antidepressivi alzino moltissimo il numero delle connessioni dunque si vede che la persona qui che è stata trattata da antidepressivi il suo cervello non è tornato al livello iniziale perché livello iniziale c'erano alcune connessioni adesso ce ne sono tre volte quattro volte di più in realtà ci sono dieci volte di più dopo il trattamento antidepressivi che dunque questa persona è trattata ma non è guarita per essere guarita ci vogliono altre cose ci vuole che queste connessioni diventano funzionali e come fanno per diventare funzionali ci vogliono cose come per esempio stimolazioni sensoriali ma anche relazioni sociali psicoterapia eccetera con questo vengono selezionate le connessioni che sono utili per questa persona e soltanto allora quella persona sarà guarita cioè con un dialogo tra neurobiologi e farmacologi per esempio si riesce a capire questa cosa ultimo esempio la fecondità dei modelli matematici qui c'è un'altra diapositive non ve la spiego ma questo è soltanto per mostrare come cambiando di punto di vista si entra proprio in un altro formalismo cioè in un interazione con un economista abbiamo potuto usare modelli matematici per tentare di capire il modo nella quale funziona proprio il sistema che noi stiamo studendo nel cervello dunque ci fa anche cambiare come dire il formalismo cioè il metodo proprio questi lavori ci ha permesso di proporre una visione complessa della depressione integrando i differenti aspetti che vanno dalla psicologia alla biologia moleculare passando per la matematica e la neurobiologia tutto ciò non è un discorso sulla interdisciplinarità ma un dialogo interdisciplinare concreto la cui trama è segnata dal fatto che il contributo di una disciplina ad un'altra è segnato da una reciprocità questo metodo è fecondo e si evita di ripiegarci su noi stessi come diceva Emmanuel Mugnier l'intelligenza non si definisce e si esercita nella solitudine e ogni pensiero che si crede sufficiente a se stesso e rifughe dal confronto si indebolisce e schivola nella fantasia si irrigidisce e diviene un'idea fissia e si annebbia tuttavia ed è un punto fondamentale di questo dialogo ciò suppone essere ben radicati nella propria disciplina per evitare di giungere ad una confusione dei diversi approcci nel qual caso si perderebbe l'identità di ciascuno quindi occorre approfondire la conoscenza della disciplina ecco perché nel laboratorio ognuno approfondisce la sua identità partecipando a congressi specifichi e perfezionandosi e perfezionandosi alle metode specifiche suppone inoltre che l'appartenenza disciplinare di ciascuno sia resa esplicita addirittura rivendicata non si tratta di nascondere la propria identità e o peggio ancora di rinunciarvi per paura di urtare l'altro o di incontrare la sua incomprensione ma al contrario di affermare la propria identità per condividerla con gli altri l'esperienza ci ha dimostrato che approfondire la propria appartenenza non diminuisce l'interesse per ciò che fonda l'identità dell'altro anzi succede il contrario per esempio come neurobiologa cerco di stabilire una relazione tra l'attività cerebrale e i processi comportamentali o cognitivi questo può essere testato in esseri umani in particolare con strumenti sofisticati come tecniche di neuroimaging funzionale che permettono di stabilire alcune correlazioni tra attività cerebrale e emozioni è possibile vedere un esempio su questa diapositiva un soggetto è stato posto in un scanner per misurare la sua attività cerebrale mentre lui si vede una video che cosa c'è su questa video su questa video si vede il soggetto vede il suo piede che con una tarantula tarantula molto tarantola una tarantola molto pelosa che si avvicina dal piede e allora si può vedere che più questa tarantula si approccia del piede del soggetto più si cresce l'attività in certe zone del cervello del soggetto no perché ha paura e quello che si vede qui è il cervello del soggetto che ha paura cioè le zone che sono in giallo corrisponde a zone nelle quali l'attività si è accresciuta quando linearmente con l'approccio della tarantola pelosa e dunque si vede si vede che questa attività non è cresciuta dovunque nel cervello è cresciuta in parte specifiche dunque questo è il metodo che applichiamo noi come neurobiologi e in questo dialogo io rimango neurobiologa dunque applico questi metodi non vado ad applicare non so che cose metodi della filosofia io dunque rimango così il filosofo per quando lo riguarda utilizza altri metodi deve leggere con rigori di testi eccetera lo psicologo costruisce dei modelli teoretici che successivamente sperimenterà eccetera l'importante è che il neurobiologo resti se stesso così come il filosofo il psichiatra eccetera senza ciò non si può più essere un dono per l'altro questa dinamica esclude completamente il tentativo di portare l'altro al proprio approccio alla propria teoria lo scienziato non cercherà di convincere il filosofo della necessità di divenire scienziato e viceversa questo si applica ovviamente per tutti gli aspetti e tutte le discipline rappresentate è proprio perché ormai da più di dieci anni ciascuno del laboratorio è sicuro del rispetto dall'altro appartenente a un'altra disciplina diversa che abbiamo potuto avventurarci in una conoscenza reciproca sempre più feconda questo può essere fatto solamente se si è certi che l'altro non approfitterà di certe debolezze del nostro discorso per tentare di convincerci della sua opinione o per attaccare la nostra disciplina per finire è evidente che in certi casi il dialogo può sforciare in controverse o debattiti accesi la mia esperienza ci mostra che è meglio cominciare a focalizzare su punti sui quali i due parti concordano così da permettere di basare i discorsi successivi su uno zoccolo solido e di creare una fiducia reciproca senza la quale è impossibile ogni dialogo ad esempio nel nostro laboratorio ho convinto che la depressione è una patologia complessa che non può essere trattata con modelli teoretici semplificati e noi portiamo di questa condizione condivisa da tutti il mio modo di affrontare la ricerca scientifica è dunque caratterizzato essenzialmente da un pensiero dialogico che permette di procedere verso una comprensione più globale dei fenomeni per giungere a una certa forma di visione unitaria della conoscenza l'espressione pensiero dialogico può sembrare a priori una vera sfida in un mondo universitario dove il pensiero può a volte sembrare piuttosto frammentato fra molteplici teorie diversità di approcci e in una molteplicità di discipline le più varie non poche volte mi è sembrato un tentativo quasi impossibile e quindi dover rinunciare a una conoscenza integrata ma questo approccio può conduci a nuove scoperte o è soltanto un dialogo così una cosa di salone come dire simpatica salotte salotto simpatica ad avanzare nella conoscenza nella malattia o a mettere a punto nuovi trattamenti medici tutto ciò non è che un sogno astratto illustrerò con un esempio frutto dei nostri lavori di ricerca non riguarda il dialogo interdisciplinare ma su un altro dialogo che si fa nella mia disciplina nelle neuroscienze dove troviamo tante teorie diverse contrapposte anche infatti abbiamo potuto fare grazie anche alla perspicazia di alcuni studenti una scoperta che permette la conciliazione fra due teorie sulla depressione fino ad allora ritenute opposte la teoria norogenica e quella endocrina nel mio laboratorio avevamo ah sì 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 va bene nel mio laboratorio avevamo dimostrato il ruolo cruciale che hanno gli antidepressanti gli antidepressivi sulla neurogenesi adulta di cosa si tratta? per molto tempo si è pensato dopo il fisiologo spagnolo Ramonica Hall che è stato premio Nobel che la nascita di nuovi neuroni era una proprietà specifica del cervello in livello di sviluppo cioè quando si è bambini eccetera ma poi finita e dunque tale possibilità andava persa dal tutto una volta che il soggetto aveva raggiunto l'età adulta ma si è scoperto che questa idea è sbagliata poiché è stato osservato che in due regioni del cervello che nuovi neuroni possono essere generati ogni giorno della vita adulta ne vedete qui dei nuovi neuroni e si deve sapere che si stima che in un cervello umano adulto 700 nuovi neuroni vengano prodotti ogni giorno cioè nel cervello di ciascuno di voi succede questa cosa straordinaria curiosamente questi nuovi neuroni non sopravvivono tutti in quanto la metà di loro muore nell'età di due settimane prima di arrivare all'età matura sopravvivono solo coloro che hanno stabilito connessioni con gli altri neuroni coloro che interagiscono e comunicano con gli altri neuroni ma qual è il loro legame con la depressione perché dicevo che voglio parlare della depressione abbiamo dimostrato il ruolo cruciale che queste nuove cellule hanno sulla depressione e sugli effetti degli antidepressivi in realtà se il numero delle nuove cellule si riduce gli antidepressivi non hanno più nessun effetto terapeutico quello che si vede qui si vede che gli antidepressivi stimolano la neurogenesi e questo produce effetti terapeutici quando non ci sono più questi neuroni si possono iniettare quanti antidepressivi che si vuole non hanno nessun effetto dunque mostra un ruolo centrale di questi nuovi neuroni allora questo scoperto ha destato molto scalpore in quanto ha portato una novità assoluta nella nostra comunità scientifica internazionale e alla base della teoria neurogenica della depressione tuttavia esistono anche altre teorie a riguardo nel nostro campo nelle neuroscienze ad esempio la teoria ormonale della depressione postura che la depressione sia devuta a un'alterazione della regolazione degli ormoni dello stress cioè non ha niente da vedere ecco è che se si tratta la regolazione degli ormoni dello stress che si produce effetti terapeutici normalmente un sistema di controllo impedisce di fatti un eccesso di questi ormoni dello stress ma questo sistema è disturbato in un soggetto depressivo e nel caso di trattamenti con antidepressivi gli effetti benefici appaiano solo quando questo deficit è stato guarito questa teoria come la nostra teoria neurogenica sembra anch'essa appoggiare su solidi argomenti come fare allora iniziare a guardare la teoria opposta con un po' di benevolezza invece di liquidarla semplicemente evidenziandone le incongruenze interessarsi ad essa invece di studiare a cercare il miglior argomento per distruggerla definitivamente in tal modo poco a poco lavorando con gli altri è maturata l'idea che fosse possibile collegare le due teorie potrebbe accadere che i nuovi neuroni partecipano nella regolazione degli ormoni dello stress inoltre sarebbe significativo se i due sistemi comunicano tra loro rimaneva soltanto da fare una serie di esperimenti di laboratorio questi esperimenti richiedono molto attenzione e massimo rigore non si tratta di una questione di fantasia ma di dover essere i più obiettivi possibile affinché il risultato sia perfettamente scientifico vale a dire riproduttibile il risultato è sotto i nostri occhi infatti i nuovi neuroni dell'ipocampo sono coinvolti nella regolazione degli ormoni dello stress queste due teorie antagonistiche sono state riconciliate unificate se noi nel mio laboratorio che siamo in parte promotori della teoria neurogenica ci fossero dati come obiettivo di convincere i partigiani della teoria endocrina e che sia fosse giusta solo la nostra teoria non avremmo mai potuto fare questa scoperta che valorizza entrambe le teorie fino ad allora ritenuto inconciliabili e questo risultato ci permette ora di sperare di procedere più efficacemente nella cura e nel trattamento dei malati ma da dove mi è venuta questa passione per il dialogo fra teori contraposte sono convinta che questa passione in me trova in gran parte la sua origine nel pensiero sull'unità proposto da Chiara Lubic in un suo testo dal carattere spirituale dal titolo guardare tutti i fiori dal 6 novembre 49 lei diceva le anime d'una volta cercavano Dio in loro esse stanno come in un grande giardino fiorito e guardano e ammirano un solo fiore lo guardano con amore e nei particolari e nell'insieme ma non osservano gli altri Dio chiede a noi di guardare tutti i fiori perché in tutti è lui e solo osservandoli tutti si ama più lui che i singoli fiori Dio che è in me che ha plasmato la mia anima è anche nel cuore del fratello non è ragionevole che io lo ami solo in me se così facessi il mio amore avrebbe ancora qualcosa di personale d'egoistico amerei Dio in me e non Dio in Dio mentre questa è la perfezione Dio in Dio ed è proprio questo modello che ha davanti i miei occhi quando cerco di promuovere la ricerca interdisciplinare e i lavori tendenti ad unificare le teorie opposte nelle neuroscienze ma possiamo chiederci questo è giusto contemplare realtà d'ordine mistico è compatibile con l'approccio scientifico che mette in evidenza la necessità dell'oggettività e della verifica sperimentale in effetti come vedremo questo non solo è legittimo manzi necessario in epistemologia alcuni autori come Hans Reichenbach nel 38 nel suo libro che si chiama esperienza e predizione hanno proposto l'idea che la ricerca scientifica si svolgesse secondo una duplice logica la logica della scoperta e la logica della giustificazione la logica della scoperta cosa si tratta la logica della scoperta è una fase del processo nel corso del quale una nuova idea o una nuova teoria è generato dallo spirito dello scienziato per Reichenbach questa fase opera secondo logiche analogiche soggettive e integra elementi apparentemente lontani della razionalità scientifica come per esempio la creatività l'intuizione le metafore nel corso di questa fase il ricercatore seleziona inconsciamente elementi che in seguito si integreranno nella sua teoria per alcuni autori come Feyerabend nel suo libro Contro il metodo nel 75 le idee generate nel corso di questa fase devono provenire di una cultura generale molto vasta che integrano che integrano favole elementi mitologici antichi eccetera e questa fase è cruciale ricordiamoci che si attribuisce frequentemente la vocazione di costruire un pensiero razionale di René Descartes a tre sogni che fece il 10 novembre 1619 in effetti nel discorso sul metodo lui racconta come durante un ritiro in pieni verno in un villaggio della Germania fui bloccato da livello in un quartiere dove in mancanza di conversazione che mi distrasse me ne stavo tutto il giorno da solo chiuso in una stanza riscaldata e gli fece un sogno nel corso del quale all'inizio del libro cade sul verso d'Ossone che dice quale cammino seguirò nella mia vita e questo fu all'origine della sua vita di filosofo e tuttavia Descartes è spesso considerato come il padre del razionalismo occidentale cioè il razionalismo occidentale nasce di tre sogni cioè ed è anche ben noto che Isaac Newton che poteva fare la sua scoperta della non poteva fare la sua scoperta della gravità senza aderire alle idee dell'alchimia che lì ha dato l'idea abbastanza assurda nel contesto del suo tempo che le forze possono esercitarsi come un'azione a distanza d'altra parte Friedrich Kekule von Stradonitz che ha scoperto la struttura del benzene racconta che è stato nel corso di un sogno sull'uro Burrus il serpente gnostico che si morte della coda che fece questa spettacolare scoperta questa logica della scoperta che ci appoggia su elementi extrascientifici è dunque essenziale per la genesi di nuove idee essa può integrare non solo dei sogni ma anche delle idee che provengono della metafisica per alcuni queste nuove idee sono impossibili senza tutto questo per esempio Popper dice sono incline a pensare che la scoperta scientifica è impossibile al di fuori dell'adesione a delle idee puramente speculative e talvolta addirittura confuse questa appartenenza è ingiustificata sul piano scientifico e lo è da un certo punto di vista metafisica anche il grande storico della scienza Thomas Kuhn va nella stessa direzione per lui la ricerca scientifica può essere descritta da un anello l'insieme della comunità scientifica aderisce a un paradigma lui chiama questo scienza normale ad un certo punto questo paradigma può essere messo in crisi da scoperte che non possono essere spiegati in questo stesso paradigma allora si entra in un momento di intensa crisi che durerà fino adozione di un nuovo paradigma che costituisce un importante cambiamento si rimane in una fase di scienza normale fino alla prossima crisi per lui è in questi momenti di grave crisi di rottura con i sistemi teoretici e con le credenze precedenti l'adesione a una metafisica può avere una grande influenza e giocare una funzione euristica ma poi c'è la logica della giustificazione tuttavia questa fase non è sufficiente perché una teoria possa acquistare lo status di teoria scientifica poiché una seconda componente logica altrettanto importante deve essere messa in atto la fase durante la quale si opera la logica della giustificazione nel corso della quale le idee generate nella prima fase sono controllate empiricamente e anche valutate in base alla loro plausibilità semplicissità la loro logica interna la loro coerenza con la letteratura esistente evidentemente queste due logiche non operano separatamente ma piuttosto in maniera congiunta nel corso di questa seconda fase il ricercatore deve applicare l'oggettività scientifica e fare dei controlli sperimentali delle idee che vi sono venute seguendo la logica della scoperta che cos'è questa oggettività scientifica per esempio è essenziale per fare scienza la riproducibilità dei risultati in altre parole se un altro ricercatore in qualsiasi parte del mondo di ogni cultura di qualunque età o religione riproduce l'esperimento in esame deve trovare esattamente lo stesso risultato questo si chiama carattere oggettivo del metodo scientifico il che significa che nulla di lui deve venire a modificare in alcun modo il risultato che si ottiene perché i risultati devono essere validi indipendentemente da lui in altre parole in un certo modo la sua influenza deve essere minima per essere un buon ricercatore si deve essere vuoto di sé assente controllo esperimentale prima di iniziare un esperimento scientifico si parte di una interrogazione sulle cose da una questione da una ipotesi che sono ispirate dalla logica della scoperta ma l'approccio nel campo della scienza sperimentale richiede il confronto di queste idee con il metodo ipotetico deduttivo che cos'è il ricercatore fa una domanda e si appoggia sulla base delle conoscenze che ha acquisto attraverso le esperienze passate o attraverso la lettura del lavoro di altri ricercatori questo porta ad una ipotesi che sarà quindi in grado di testare sperimentamente se il risultato conferma l'ipotesi si possono dunque pubblicare i risultati in caso contrario deve affinare la sua ipotesi modificarla o abbandonarla che possiamo vedere che nella scienza tutto dipende della sperimentazione associata a una ipotesi e al ragionamento come dice Henri Poincaré l'esperienza e l'unità è l'unica fonte di verità che sola ci può insegnare qualcosa di nuovo ed essa sola ci può dare certezze questi due punti non si può possono negare le idee venute da questo laboratorio di idee extrascientifiche pertanto hanno valore solo nella misura in cui essi sono disposti a dialogare con le esigenze del metodo scientifico esse devono dunque durante la fase di giustificazione essere mesi alla prova dei fatti e attraversare il filtro della sperimentazione è solo nella misura in cui si verifica questo dialogo che possono avere una qualche fecondità in altre parole bisogna cominciare a camminare sulle due gambe quella della logica della scoperta sorgente dell'ispirazione e quella della giustificazione che permette di farne delle scoperte scientifiche è necessario legare i due aspetti il contributo di idee extrascientifiche come le idee metafisiche alla scienza è sottolineato anche da William Wewell che indica chiaramente che la capacità di collegare i due è proficua la persona che hanno fatto scoperte nel campo della fisica si distinguono da quelle che fanno speculazioni sterili per il fatto che legano la loro metafisica alla loro fisica invece di lasciare le due a debita distanza così le idee extrascientifiche e metafisiche come Watkins ha detto metafisica influente non sono estrane alla creatività scientifica meglio ancora hanno anche un ruolo fondamentale nella produzione di nuove idee allo stesso modo del lavoro di laboratorio ma come ciò può accadere nel concreto e quali sono le condizioni perché sia posso essere fecondo affinché queste idee possano essere scientificamente feconde è necessario che l'approccio utilizzato possa soddisfare tre condizioni tutti tre cruciali primo una influenza in coscia curiosamente se si cerca io ho cercato dunque lo so se si cerca in un modo esplicito a collegare le idee extrascientifiche con l'approccio scientifico non funzionerà sono numerose le esperienze di ricercatori che hanno cercato in modo intenzionale di stabilire una relazione tra l'uno o l'altro e l'altro e questo non è legittimo questo processo è puro dono fuori dal controllo cosciente come ha detto così bene Philippe Jacotet che è un poeta francese contemporaneo ci sembra di dormire per questo le parole dovrebbero venire da sole dovrebbe venire come lo erano già anche prima di aver pensato poi deve essere un'influenza gratuita anche se Newton è stato ispirato dall'alchimia per formulare la sua teoria della gravitazione universale ciò non rende scientifica l'alchimia stessa non è perché si vive una visione unitaria delle cose che si convalidi automaticamente come scientifica la sorgente dell'ispirazione il contributo di queste idee è puramente gratuito è dato senza produrre modifiche dello status epistemologico delle convinzioni iniziali esse non diventano scientifiche a causa della loro fecondità per la scienza e quindi restano extrascientifiche i due campi sono perfettamente separati distinti anche se hanno avuto un momento di un fruttuoso incontro e poi come essere sicuri della rilevanza delle idee extrascientifiche per l'impresa scientifica anche se l'incorporazione delle idee extrascientifiche dell'approccio scientifico non ne convalida affatto il loro valore intrizeco ci si può infine chiedere come garantire la loro pertinanza e rilevanza per la scienza qui due approcci sono senza dubbio fondamentali primo si deve essere consapevoli della fonte dall'origine di queste idee extrascientifiche attraverso un dialogo interiore con se stessi guardare a fondo dentro di sé per capire se sembrano scientificamente accettabile accettabile perché alla fine anche se durante il periodo di scoperta dove si deve rimanere in grado di ricevere senza esercitare il controllo su quello che si ottiene quando si intraprende un approccio scientifico si deve essere responsabile delle scelte che si guinano e secondo è necessario dialogare con altri scienziati anche se non aderiscono alle stesse corrente extrascientifiche in altre parole anche se una metafisica come la spiritualità dell'unità potrebbe influenzare la produzione di nuove idee scientifiche è necessario allora li confrontarsi con i protagonisti di altre scuole di pensiero con gli altri con gli attori della cultura in generale in conclusione l'ideale dell'unità ha esercitato un'influenza maggiore nella mia attività scientifica e questo in più forme primo educandomi all'attenzione dall'altro mi ha permesso di accogliere l'altro anche sul piano intellettuale rendendo possibile la fondazione di questo laboratorio interdisciplinare ma devo anche dire che la stessa disposizione l'ho trovata nelle persone che si sono trovate sulla mia strada poiché questa relazione è reciproca poi allenandomi a perdere le mie idee a essere niente ha favorito una disposizione di spirito necessaria all'oggettività scientifica e finalmente inoltre questa spiritualità mi dà una metafisica dell'unità che è stata particolarmente influente durante la fase della scoperta fornendomi come le idee essenziali che potevo in seguito sottopore al processo scientifico di giustificazione vi ringrazio per l'attenzione grazie 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 l'auditorio è sensibile a questi temi interdisciplinari grazie scientifica è una dimensione anche extrascientifica prima di passare al facciamo un intervallo adesso un intermezzo musicale ma permettetemi di lanciare alcune linee di riflessione che possono essere utili per stimolarvi a delle domande che possiamo fare nel momento successivo mi è sembrato di aver colto innanzitutto una grande esperienza una grande passione dell'interdisciplinarità come tu dicevi un qualcosa che non è facile anche da vivere oggi in un contesto fortemente frammentato del sapere soprattutto a livello universitario a livello accademico ma a questo c'è da dire anche che tu hai esercitato una una qualità che non è comune nei ricercatori e negli scienziati che è quello di saper riflettere sulla propria attività no? normalmente ci si ferma sui contenuti sui risultati finali tu hai mostrato un'analisi per mettere l'espressione di una interospezione epistemologica in cui hai capito cosa è accaduto durante tutto il tuo passaggio dell'attività scientifica e della tua scoperta e anche come collocarlo nel contesto epistemologico da Reichmark fino a Feyerabend da Popper fino a Poincaré questo per me che sono un epistemologo vedo che non è normale negli scienziati e quindi questo indica in te non soltanto la capacità di saper produrre conoscenze nuove ma anche saper fare una lettura critica del tuo stesso lavoro e questo non è un fatto secondario una cosa interessante per me come epistemologo è vedere l'unificazione fra due teorie perché non è un evento che capita tutti i giorni è un po' come per un astronomo osservare una supernova una supernova statisticamente se ne vede una ogni cento anni quindi gli astronomi che sono fortunati che riescono a vederla e studiarla è una veramente sono fortunati gli altri devono sempre parlare su questi argomenti per sentito dire cioè vedere l'unificazione di due teorie che non è un processo casuale non è un processo accidentale ma è un qualcosa che si attualizza e si realizza mediante il processo stesso di avanzamento della conoscenza scientifica la conoscenza scientifica produce sempre nuovi saperi sempre nuove ipotesi sempre nuove teorie nuovi modelli ma ha all'interno di questa produzione anche un momento unificante che è a questo punto della sintesi fra teorie ecco questo è di un di un fascino per me molto grande ha un fascino molto grande perché ti viene voglia di studiare vedere i dettagli proprio di costruire storicamente i passaggi che ci sono stati per poterne analizzare poi dopo il contenuto epistemologico un altro momento mi sembra importante che tu hai giustificato molto bene è il cosiddetto momento della finestra metafisica cioè lo scienziato si trova in alcuni momenti davanti a dei problemi e non sa come andare avanti perché perché lui è alla frontiera della conoscenza stando alla frontiera andare avanti non basta la coerenza del metodo la coerenza delle teorie che l'hanno preceduto su quella conoscenza quelle lo fanno fermare sulla frontiera ecco allora la capacità fortemente sviluppata negli scienziati creativi è quello di essere aperti a un'influenza dall'esterno un'influenza che non devia come tu giustamente dicevi ma ti spinge a individuare dei concetti nuovi degli schemi mentali nuovi delle convinzioni nuove dei modelli nuovi che poi vanno sottoposti come giustamente tu dicevi alla alla logica del di Reichbach no della giustificazione perché devono diventare strumenti oggettivamente scientifici e non pseudoscientifici guardate la storia è piena di queste cose spesse volte la storia della scienza è piena si dimenticano questi aspetti qua a favore invece di una razionalità sicura di sé che avanza io ho studiato per anni fisica atomica e nucleare e se vado a studiar bene storicamente come è nata la fisica atomica e nucleare trovo e anche Popper come tu accennavi lo diceva una continuità stretta con il programma di ricerca di Democrito e Leucippo quindi Grecia 600 anni avanti Cristo sei secoli prima di Cristo in cui cominciano a riflettere non sulla struttura atomica come la intendiamo noi oggi ma è un discorso metafisico quando John Dalton quando Robert Rathford introducono il termine atomo in filosofia in in chimica e in fisica si mettono in continuità con questo programma metafisico e introducono questa nuova parola in fisica ecco un momento di grande creatività e i grandi scienziati sono non dico abituati ma hanno fatto questa esperienza della creatività della finestra metafisica e questo penso non ci sia neanche la necessità di farti l'augurio perché già hai fatto questa esperienza di aver potuto avanzare nella conoscenza attraverso un'esperienza diciamo meta-scientifica ora facciamo un breve intervallo con un intervallo musicale abbiamo i nostri due Bersi e Ermel che ci faranno un pezzo di Vivaldi e il concerto in La Minore opera numero 3 a voi aspettiamo un momento di Vivaldi Grazie a tutti. 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 Nel fare le domande che siano ben stagliate, concise e concettuose, diciamo, ecco. Quindi domande brevi, quindi domande brevi, precise e un accorgimento da tenere presente è questo, che la professoressa Belzung non è un medico, quindi non può rispondere a domande inerenti patologie sugli argomenti che sono stati toccati. Grazie a tutti. Ecco, questo economista, ecco, questo economista, non è un'acqua, non è un'acqua, non è un'acqua, non è un'acqua. E' un'acqua, non è un'acqua, non è un'acqua, non è un'acqua. E' 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 un'acqua, non è un'acqua, non è un'acqua. che poi abbiamo potuto lavorare per tentare di progredire nella descrizione e così di fornire anche un modello che permette poi di fare predizioni. ecco, così è come lo descrivere, ma forse è tempo aggiungere qualcosa se vuole. No, posso dire che in questo dialogo... In questo dialogo io ho scoperto la mia identità, cioè che cosa potevo portare. perché in un certo senso io ho perso la mia disciplina, cioè abbiamo capito che non è che si può rimanere generico. se si vuole sottomettersi alla prova scientifica, non si può stare a cavallo tra due discipline, questo non esiste. Quindi io sono entrato nella disciplina di Catrina. Propriamente, cioè ho pubblicato in una rivista del suo campo. però potevo dare un contributo proprio perché venivo da fuori, cioè potevo portare qualcosa che non c'era da loro. però nel cercare di capire che cosa potevo portare mi portava a riflettere su di me. Qual è la mia specificità? E questo è anche una cosa profonda, bella, che ti aiuta anche nel tuo proprio percorso. Anche un'altra cosa che posso dire è che quello che ho portato non sono io. È la mia disciplina che ho portato. Cioè io non ho mai avuto l'impressione di portare chissà che, diciamo, genio mio. Non è stato questo. Io mi sono messo all'ascolto della mia disciplina, all'ascolto dei suoi bisogni e ho fatto solo da, diciamo, da tramite o da sfondo tra delle cose, diciamo, assolutamente ovvie per noi. Ma siccome vengono da un'altra parte, sono un vero contributo per l'altro. Ecco, mi chiamo Patrizio, sono un educatore insegnante. E intanto grazie per queste scoperte che tu e la tua equipe avete fatto, perché a me danno un segnale così che c'è sempre qualcosa di giovane, di nuovo, nella vita di ogni giorno e di ogni momento che c'è in noi. La domanda che volevo fare era questa. Se le ricerche che avete fatto, dei risultati che avete ottenuto nelle vostre ricerche, avete trovato dei dati significativi per quanto riguarda l'età evolutiva e poi la differenza di genere tra maschio e femmina. Allora, l'età, questo vuol dire, tra giovani e più adolescenti. Sì, noi nella nostra equipe ci sono alcuni che studiano l'invecchiamento e la depressione. E quello che hanno mostrato è che forse quello che produce stati tipo depressione da una persona giovane non è la stessa cosa che quello che produce depressione tra la persona più anziana. Cioè, i meccanismi possono essere diversi e questo anche ci aiuta abbastanza a un filosofo che abbiamo nella nostra equipe, perché può essere che noi mettiamo una parola su realtà che sono in fatto cose diverse. Cioè, mi spiego, nella tradizione di filosofia analitica, per esempio, hanno potuto mostrare, è un altro campo, ma poi torno sul nostro campo, hanno potuto mostrare alcuni filosofi che i biologi, quando usano il concetto di evoluzione, infatti lo usano in parecchi sensi. Che, infatti, i biologi non notavano questa cosa, per loro era una cosa che invece, se si guarda veramente, sono parecchie cose. E qui può essere che sia la stessa cosa, può essere che non ci sia una depressione, ma parecchie forme che poi prendono un'apparenza simile, ma che infatti siano cose diverse. Cioè, il filosofo da noi sembra prendere esempio della febbre, cioè, nei secoli precedenti, si pensava che la febbre fosse una malattia, che invece adesso si sa che non è una malattia, che c'è l'influenza, c'è, non so, ci sono tante malattie nelle quali c'è la febbre. Dunque, questo anche mostra che, come i filosofi, ci possono aiutare anche a capire cose come quelle, cioè che forse una cosa sulla quale noi mettiamo una parola, infatti sono parecchie cose. Ciao, sono Aurelio del Brasile. Io vorrei fare due domande. La prima sarebbe il ruolo dell'ostacco, dell'ostacco della stessa idea, della propria idea, per riuscire a costruire insieme. E se questo è importante per il processo di creatività, allora perché è così difficile staccarsi dalla propria idea per costruire insieme cose nuove? Questa è la prima. E la seconda è che nelle scienze sociali ci sono due teorie che addirittura fanno un dilemma, no? C'è la teoria di Granovete, dei nodi, non so come si dice, deboli, che dice che il processo della conoscenza nuova occorre quando ci sono queste relazioni meno forti, deboli, in cui entra la novità, quello che è nuovo dal gruppo primario. Poi c'è un'altra teoria del capitale sociale che dice che per riuscire a costruire cose insieme in un gruppo c'è bisogno della fiducia, dei rapporti più, diciamo, strong, forti. E questo è un dilemma, no? Perché poi se ci sono questi rapporti così di complicità, di fiducia, di amicizia, così, noi tendiamo a chiudersi in questo gruppo e non lasciare entrare quello diverso, no? Allora c'è questo dilemma. Come vedi tu dal punto di vista della neuroscienza queste cose? Come restare insieme e nel tuo gruppo riuscire a produrre, perché hai trovato un livello di fiducia e queste cose e allo stesso tempo essere aperto agli altri che non fanno parte di questo gruppo? Non ho capito bene la seconda domanda. Cioè, la domanda sarebbe se ci sia ricerche sul suo livello o su che cosa succede quando si apre... No, sulla dinamica del tuo gruppo di lavoro, no? Della tua comunità di lavoro lì, in cui fai il capo, che per riuscire a costruire queste cose c'è bisogno di tempo e un rapporto costruito, no? Con fiducia e queste cose. Però allo stesso tempo questo, diciamo, tende a farci chiudersi in questo gruppo e non aprirsi alla novità dell'altro. Sì, ma la nostra esperienza del nostro gruppo c'è che anche poco a poco sempre abbiamo accolto persone nuove, cioè perché proprio erano persone che erano contente di vedere come lavoravamo e dunque si aggiungono sempre nuove persone che portano un sguardo ancora nuovo. Dunque non... Cioè, non... Come dire, per esempio, da un mese comincia anche a integrarsi un fisico un fisico perché il suo... che è anche una nuova disciplina dunque è ancora una nuova cosa perché lui gli piace riflettere su realtà complesse, su modelli complessi e dunque lui dice che anche se lui rimane fisico certamente non c'entra depressione per un fisico ma... perché gli oggetti che studia lui forse non... Sì, ma il punto comune è la complessità dunque questo... Dunque si apre sempre più a a voglio dire gente e discipline che veramente non... Cioè, se vogliamo pensare a che persone ci vuole per fare studi sulla depressione allora si pensa su psicologi, neurobiologi, farmaci, eccetera. ma non avrei mai pensato né all'economista né al fisico. Cioè, dunque direi che... Ma l'importante secondo me è scegliere un oggetto perché se non si sceglie un oggetto di ricerca allora la discussione è su cose come dire senza precisione e allora penso si stanca velocemente penso che la cosa che fa che funziona è che proprio c'è un oggetto di studio cioè... C'era un'altra domanda Edison sono Edison e le mie domande sono molto brevi e lei ha appena risposto in parte perché mi domandavo come il mondo fuori il mondo accademico scientifico vede il vostro lavoro vi valorizza per il vostro risultato o per il vostro modello di lavoro? Allora perché infatti non ho fatto la distinzione in modo forse chiaro tra quello che facciamo dentro la nostra disciplina che è dove tentiamo di unificare teorie diverse e quello che facciamo con la interdisciplinarità dentro la mia disciplina quello che osservo è che io sono frequentemente invitata a presentare i nostri risultati a conveni scientifici una cosa proprio molto tecnica e quello che mi ha molto colpita è che ho visto che le persone erano felici infatti come se perché normalmente quando si vede una conferenza scientifica la parola felice non si userebbe proprio cioè come se loro avessero il sogno che cioè vedono tutta questa frammentazione vedono che e c'è l'assenza di tentativo di integrazione e loro hanno come un sogno che fosse possibile riunire tutto ma poi nessuno tenta di fare questo allora loro veramente ma perché io già ero abituata a fare conferenze scientifiche voglio dire ma fuori di questo di queste cose lì e mai avevo visto che può creare discussione che può interessare sì ma rendere felice e non grazie professoressa della vostra la sua intervento io volevo un po' capire il fenomeno della paura perché abbiamo paura è un fenomeno psicologico o c'è un rapporto tra il nostro sistema endocrinologico con il nostro cervello perché un bambino se vede un animale come il cane per esempio è tranquillo mentre io se vedo un cane non sono tranquillo allora c'è anche una comunicazione tra io e il cane perché nel momento che ho paura vedo anche il cane sviluppa anche il comportamento qual è questo rapporto ma prima perché la paura esiste sia a livello come dire spontaneo cioè ci sono cose che fanno paura come dire anche senza senza imparare niente cioè per esempio la paura della tarantola velosa cioè pelosa questo quasi è come se ci sarebbero immagini che spontaneamente ci fanno paura poi c'è un'altra paura che viene di quello che impariamo cioè che abbiamo associato tale cosa con un evento avversivo allora lì c'è la paura imparata ma quello che si si sa anche è che nel cervello cioè non c'è una come dire una sola regione che sia responsabile della paura cioè ci sono parecchie zone e quello che è bello è che ci sono zone che sono come dire tutto questo viene anche dell'evoluzione delle specie e dunque ci sono zone molto anziane non so se si dice antiche che sono programmati per aiutarci a reagire a delle stimolazioni avversive ma poi abbiamo anche altre zone più recente che ci permettono di inibire quelle altre cioè dunque nel cervello c'è tipo una comunicazione che in un certo modo noi siamo fatto anche di di quella storia evolutiva che fa che abbiamo alcune reazioni emozionali quando si incontra alcune stimolazioni ma poi abbiamo anche la capacità di risentire questo e di inibirne l'espressione cioè questo è abbastanza importante capire perché di recente sono stati molti esperimenti dove si vedono si vede per esempio c'è una nuova tecnica che permette di attivare tale neuroni nel cervello cioè e dunque si possono attivare per esempio neuroni dell'aggressività della paura eccetera quando si fa questo si produce come una cosa che si assimila alla paura all'aggressione eccetera ma infatti manca una parte perché manca lo controllo cosciente che anche esiste nel cervello dunque sono queste due cose cioè allo stesso momento è basata proprio su come dire tutta una cosa cosa che ci permette che viene della nostra storia evolutiva e che ci permette di essere adatti all'ambiente e poi c'è anche la possibilità di agire in modo più cosciente per inibire tutto questo ecco grazie avremo penso altre domande adesso ci sono Anna Maria e Rami che ti consegnano il nostro pensiero per questo evento grazie ecco ecco Caterine io penso che da parte di tutti dobbiamo ringraziare perché ci hai fatto protagonisti con te di un evento non è stata una semplice conferenza è stato un evento che è stato nutrito preparato dal fatto che tu sei già venuto da tre giorni hai condiviso la nostra vita che Etienne è venuto appositamente ecco vuol dire evento c'è quando c'è un'interazione profonda vitale quindi noi abbiamo vissuto un evento che mi fa dire questa certamente è una delle cattedre più belle che abbiamo avuto a Sofia penso che sia la undicesima no la decima perché una è saltata ma certamente è una delle più belle grazie di questo evento secondo un'impressione forte ho avuto a un certo punto della relazione subito decifrata non so se un'emozione da che parte sia insomma ma comunque io ce l'ho perché io sono sul livello della finestra metafisica quindi però ho avuto l'impressione a un certo punto mi sembrava una cosa così con tale spessore che ho detto qui ci sono i piedi in terra raramente mi è capitato anche sentendo degli scienziati o vedendo del lavoro culturale di vedere una realtà profondamente incarnata piedi mi veniva da dire sento che ho i piedi per terra grazie a Caterine cioè in questa permettete pericoresi i piedi per terra cioè ci hai messo i piedi per terra quindi in te abbiamo i piedi per terra terza cosa sono solo 15 quindi non preoccupate no no 4 4 4 terza cosa terza cosa dicevamo adesso con Sergio certamente questo deve essere pubblicato in una forma agile perché è un referto esemplare di un metodo che ha dato risultati effettivi ma è una metodologia anche assolutamente esportabile quindi adesso con quello che Sergio ha detto perché anche bisogna ringraziare anche Sergio per la cura e per quello che ha detto con quelle linee secondo me è già quello se tu metti per scritto quello veramente sarebbe un'ottima presentazione e forse lancio qui l'idea poi vedete voi io metterei anche una cosa di Etienne in questa pubblicazione per mostrare proprio ecco sarebbe io penso che ultima cosa detto questo a questo punto con queste premesse epistemologiche come direbbe Poincaré forse non so io penso se i professori a cominciare dai più anziani ecco e gli studenti di Sofia sono d'accordo io penso che certamente a Catrin dobbiamo conferire il titolo di professore onoris causa a Sofia non ci siamo messi d'accordo però io sentivo la cosa in un'altra maniera cioè la Repubblica di Francia ti ha dato la regione d'onore cioè fai parte di una legione di persone che ha dato onore alla Francia io direi che tu adesso fai parte anche della legione della sapienza della Sofia perché hai fatto onore alla sapienza con questa tua bella sintesi grazie 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 a tutti grazie a tutti